Ciao beautine, bentornati in questo nuovo video allora oggi vi propongo questo trucco super primaverile su tonalità del pesca e del viola un look colorato ma comunque portabile e leggero per quanto riguarda le labbra ho scelto una tonalità nude pescata che trovo stia particolarmente bene con il pesca che ho applicato anche sugli occhi dire quindi di partire subito con il tutorial e iniziamo come il mio solito ad applicare il correttore su tutta la palpebra e l'ombretto color carne opaco sotto l'argata sopraccigliare e nella piega dell'occhio nella parte finale dell'occhio e nella piega applico inizialmente questo ombretto malva che successivamente vado ad intensificare con l'ombretto viola sulla palpebra mobile vado ad applicare questo ombretto pesca con una punta di rosa al suo interno applico un illuminante sul rosato nell'angolo iniziale dell'occhio e sotto l'arcata sopraccigliare realizzo la mia solita riga di liner nera e applico il mascara solo sulle ciglia superiori dell'occhio per quanto riguarda le labbra le vado inizialmente a contornare e riempire con questa matita nude molto molto chiara successivamente ci applico al di sopra questo rossetto burro barra burro cacao su tonalità del pesca e questo è il look terminato io vi lascio come al solito alle immagini finali ovviamente non dimenticatevi di farmi sapere cosa ne pensate di questo look e noi ci vediamo nel prossimo video ciao beauty net